Il 6 metri e uno E' una canta! Love you, don't have a bello, don't have a bello il rio l'uomo non cantavate più dopo ma se me lo cantavate da soli è partita in giù di storia ve lo cantavate da soli ve lo cantavate da soli e lo cantavate da soli ma poverino si perde un pregur da soli oh vai vai ma io le ho detto dai siiii me lo cantavate da soli la romagna è capo noi la romagna è severa la romagna è severa è un'unica cosa che è vera noi abbiamo il mare e voi avete la montagna comunque hanno visto che quando i fiori si sono incassati perché hanno visto che la partita era venduta infatti se stavate a casa infatti se stavate a casa che venivano a spaccare i baroni stavate a casa io gli ho fatto prendere la romagna se lo cazzo sei voi mi dovete sfogare mi dovete mangiare mi dovete fare il bocchetto infatti ha cavato ha cavato ha cavato ha cavato ha cavato greco c'è stato un'attentazione invece di dire che se stavate a fare il tasto e il coso il figlio stava perdendo punti a letto suveva la telefattica se stavate a fare i punti andava a testo e gli occhi e come se stavate a fare questa ha fatto questa ha fatto questa ha fatto questa vengono che ha fatto il campo il campo ma la allora quello che era è quello che era vero il campo di in quelle ma aspetta, mi ha perso, aspetta, se hai perso di cose non c'è, ma che è una cosa, corso e gli altri rovers, e uno fa ciò che risulta lui, gli altri rovers, babano! e lo faccio, continui, perché è proprio il primo, quello strano, mi ricordo in noi, insomma il professore mi ha detto, so pagò, tassi, hai dato la palla e voglio aprilare, ma noi siamo gemellati con la avena, infatti è uscito di chiudi, sei messo la mano della avena, brava, è tratta, cosa ti ha segnato, ho dato la mano, ha detto scusate, però non poteva portarlo fuori è voi che mi avete fatto ferire tu mi avete rinni, mi avete rinni, mi avete rinni ma se ho cantato così al primo tempo ma non lo cantavate lui ma per favore, mi prendevano per il culo perché voi al primo tempo cantavate di mi avete rinni ma non l'abbiamo mai cantato tassico, tassico ti faccio vedere la vita prestito dai, dai, che cantavate, è andato voi a cantare ah, no, 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 no ma come hai fatto? li prendevano per il culo no, no ma cosa ti devi prendere per il culo? dai, venite qui mi mi dei dei rumi mi mi dei dei senza capiremo poivi vedere che ci fa di una botta suona mi di hands a sc Paramount cosa è mezzo Iran's car? mi mi del de oltre Panas comunque, come va il Panasent? Gli piace soffrire, dai! In Messico? Eh, sono in Messico, perché io la porto un'altra, 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 un'altra. … No, non è vero! No, io spiego, a carta e io mi spongo le informazioni. Oh! Che la domenica, il sabato, la domenica, quando la suscrito è partita. Perché mi ritardo lei, due o tre ore con lei. eeeh 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 e si chiama il tuo amico! 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 no! il tuo amico è che fada al centro e goi! ma si chiama il tuo amico! ma se lo fai iniziare! io non fai iniziare! eeeh! 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 ma la metti di stare lì a guardare il peccatore! perchè non sei ancora in tre ore, quattro ore? perchè non si dovuto vedere stamattina i minuti? ora che è la venite! eeeh! 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 Grazie a tutti.